Lo scorso 30 giugno Consiglio di Amministrazione di Fondazione Comunitaria VCO ha approvato il primo bilancio sociale. Sì, è vero, quest'anno abbiamo dovuto, in base alla legge, predisporre un consistente e anche ponderoso bilancio sociale che illustra un po' tutta l'attività che abbiamo svolto nel corso dell'anno scorso. Dico i due dati essenziali. Intanto l'anno scorso abbiamo erogato contributi per 1.600.000 euro e abbiamo sostenuto più di 100 progetti che meritavano evidentemente la nostra attenzione. Abbiamo dovuto farlo grazie ai contributi istituzionali che ci derivano da Fondazione Caliplo e da Compagnia San Paolo, ma anche grazie alla generosità del nostro territorio. 500 donazioni che hanno portato a raccogliere quasi 700.000 euro. Pensate, è una cifra sicuramente notevole per una piccola realtà come la nostra provincia. Avete approvato anche contributi su tre bandi. Sì, i tre bandi sono la seconda sessione del bando Arte e Cultura, per la quale abbiamo stanziato 60.000 euro. E poi abbiamo gli altri due bandi. Il bando Piccoli Progetti è rivolto soprattutto a quelle associazioni piccole che hanno un bilancio inferiore ai 20.000 euro o a quei comuni che hanno meno di 1.000 abitanti. E poi abbiamo approvato altri 12 progetti invece per il bando Sociale e Formazione, per il quale abbiamo stanziato circa 80.000 euro. E poi abbiamo approvato anche un progetto che rientra nel bando For Funding. Prevede che tu candidi presso la nostra fondazione un progetto. Quando tu raggiungi la metà del costo del progetto, ottieni il raddoppio. Quindi, in questo caso, abbiamo approvato un progetto della Canottieri Città di Omenia. Poi la stesura del regolamento per gli emblematici provinciali. Noi abbiamo approvato il regolamento. È un bando che noi pubblichiamo su indicazioni di Fondazione Cariplo che mette a disposizione della nostra provincia 400.000 euro. Il progetto minimo deve essere di 160.000 euro perché il contributo minimo richiedibile è di 80.000 euro. Questo bando scade il 29 di settembre alle ore 17. Dico anche l'orario perché in questo caso bisogna candidarsi sul sito di Fondazione Cariplo e alle ore 17 quel sito viene chiuso e quindi chi arriva tardi non può più candidarsi. È un bando significativo che può contribuire a realizzare dei progetti di una certa importanza. E visto che ci sono, ricordo che rimangono aperti ancora anche tre bandi della Fondazione Comunitaria. La seconda sessione del bando sociale e formazione, la seconda sessione del bando piccoli progetti e il bando for funding che non ha scadenza. Grazie!